Buone notizie arrivano dal rapporto amministratori sottotiro che conferma un calo delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, ne ha parlato anche il ministro Piantedosi. L'elettro anonimo, la telefonata notturna che ti dice, ti facciamo ricordare che c'hai famiglia, poi ci sono stati, io so per quanto mi riguarda, che i venditi hanno raccontato anche i progetti per eliminare la mia persona. Sottotiro, lo scorso anno sono stati 326 atti intimidatori contro amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri, dipendenti della pubblica amministrazione. Le minacce sono arrivate dalla mia famiglia e ai miei figli e comunque denunciare non è una scelta, credo che sia un'opzione non rinunciabile, sia nel ruolo che ricopriamo, sia per la volontà unica e indiscutibile di cambiare territori. A presentare la relazione a Roma è stato avviso pubblico la rete di enti locali e regioni contro mafia e corruzione. Minacce e intimidazioni da nord a sud, ma le regioni più colpite sono Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Dati però in calo del 25% rispetto al 2021, ma attenzione. I fatti che accadono non vengono denunciati, quindi io sarei un po' cauto rispetto alla tranquillità. L'invito che farei a tutti gli amministratori e le amministratrici che subiscono intimidazioni e minacce è quello di denunciare. Piantedosi ribadisce l'impegno del Governo a sostenere e tutelare gli amministratori locali e non solo attraverso quelle risorse già stanziate. Rinnovata attenzione da parte delle articolazioni territoriali del Ministero dell'Interno di vicinanza a quei sindaci che appunto c'è bisogno che non avvertono quel senso di solitudine. Un dato resta certo, ricoprire il ruolo di sindaco è un impegno complesso ma anche pericoloso in determinati contesti.